scusi lei è un organizzatore della gara? mi spiega un attimo come funziona questa gara? c'è un po di fango ma che vuoi, è una gara di mountain bike e c'è da stavo fango se no non ci si diverte, ma dove passano queste? è un bel tracorso vai vai k k k k iscriviti al canale